Unità di massa alle donne, agli uomini, agli studenti e anche stasettimana faremo una battaglia ma noi abbiamo un ministro della scuola, leggevo oggi al di là del delirio il plexiglass per dividere i banchi degli studenti, le mascherine, siccome ci saranno a settembre 85.000 cattedre vuote, quindi già l'anno scolastico di solito comincia con dei problemi in tempi normali, figurati in tempi di virus, quando devi avere meno studenti in classe quindi ti servono più classe, più scuole e più insegnanti, ci saranno meno scuole e meno insegnanti e non stanno mettendo un euro per sistemare le scuole dove vanno i nostri figli, un governo che si preoccupa di far ripartire il campionato di calcio e non di riempire le scuole è un governo di capri, è un governo di incompetenti, è un governo di incapaci, prima parti dalle scuole e poi ti occupi del resto, però vedremo di arrivare a tutto, un abbraccio in bocca al lupo e buona fortuna a tutti voi e a tutti noi che abbiamo bisogno e un enorme in bocca al lupo a voi e a Susanna Ceccardi. Un saluto dal sindaco che sta facendo belle cose.